Onorevole Flavio Di Muro, da questi giorni la notizia positiva è stata accolta la sua istanza di riaprire il confine per un raggio di 60 chilometri in modo che sia francesi che gli italiani possano varcarlo senza necessità di tampone o vaccino. Una misura necessaria intanto per far ripartire l'economia dell'estremo ponente ligure. Oggi siamo a guardare il mercato del venerdì che ritrova tanti clienti francesi che nei mesi scorsi non sono venuti a trovarci e poi tutto l'indotto, bar, ristoranti, negozi non possono che beneficiare di questa misura. Semplifica anche molto la vita ai nostri cittadini residenti nelle zone di confine. Prima parlavo con una signora che aveva difficoltà a rientrare verso l'Italia dopo essere andata a prendere delle medicine a mentone. Finalmente una norma di buonsenso, sono contento di aver dato il mio contributo per risolvere questa problematica. Spesso porto avanti delle battaglie a livello parlamentare e governativo su questioni locali e trovo dei muri. Questa volta il governo ha risposto positivamente. Lei ha sentito già qualche parere da parte di ambulanti ma come anche diceva di cittadini. Insomma si nota questa presenza già di ritorno dei francesi? Io oggi con i miei occhi vedo un incremento delle presenze. Gli acquisti magari sono un po' più lenti anche perché c'è stato un anno di pandemia e ha colpito economicamente le tasche sia degli italiani che dei francesi quindi la ripresa economica è altra cosa. Certo è che iniziare a rivedere le persone è sicuramente un dato positivo su cui costruire uno sviluppo economico per tutta l'area trasfrontaliera. Fino piccolo a Anva con Pesercenti, da qualche giorno, questo è il primo mercato del venerdì con i francesi che possono entrare liberamente per un raggio di 60 chilometri. Sì esatto, infatti si vede gente anche diversa che prima giustamente era un po' più striminzita in quanto dovevano essere vaccinati o avere fatto il tampone, alla frontiera tanti tornavano indietro perché bisognava far rispettare le norme. Adesso invece sembra che è tutto più libero come prima non abbiamo ancora i turisti che finora dicono io vengo da Marsiglio e vengo da Parigi sarà anche la stagione però insomma siamo contenti. Speriamo di andare verso una normalità a fare una stagione che ci faccia recuperare un po' di tutto quello che abbiamo perso. Per ora una boccata d'ossigeno e si spera comunque ancora di più. Sì sì esatto, una cosa positiva è stata anche che settimana scorsa non si è diciamo fatto notare il fatto che possono avvenire per esempio i piemontesi, i lombardi, i romani, cioè tutta Italia può andare dappertutto ecco questa è stata, perché non è che viviamo solo di francesi, viviamo anche di turismo italiano ecco i francesi sì fanno questa grande fetta qui però diciamo l'italiano che viene da oltre zona fa la sua parte. E gli italiani stanno arrivando? Sì già ieri a Boldighiera, anche martedì a Sanremo, oggi a 20 miglia ce n'è qualcuno in meno il perché è difficile da poter spiegare perché non è il mio compito sapere queste cose però vedevamo sì io sono di Milano, io sono di Torino, io ho la seconda casa, io ho queste cose qua insomma questo è un segnale positivo.